E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi anche questo mercoledì 13 ottobre andiamo insieme a fare la nostra analisi tecnica dei mercati finanziari in particolar modo dei mercati delle criptovalute andremo a capire quello che sta accadendo a Bitcoin perché oggi è una giornata molto volatile ve l'ho twittato ed è molto interessante questo perché appunto ha creato un po' di shake che siamo andati a ritestare le zone del dip di questa notte quindi zone 54 e 2 eravamo arrivati circa 54 ecco 53 e 9 però sui 54 e 2 insomma siamo andati a ritestarle e abbiamo trovato un'ottima risposta di domanda abbiamo Dot che sta facendo un'ottima move rialzista perché? Perché ve lo dico un po' in breaking uscita 5 minuti fa su Twitter chi è? Donny BigBags è una fonte molto interessante molto di solito autorevole sull'universo Dot e vi consiglio di dargli un'occhiata a 84 mila follower ed è seguito anche dai big players dell'ecosistema e appunto da questa notizia le auction partiranno probabilmente da metà novembre e quindi lui sta iniziando a fare la unstaking dei suoi Dot oggi per averli disponibili per fare le auction arriviamo subito a tutto ve l'ho fatto un po' di spoilerata ma come sempre prima di partire vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati davvero mi aiuta davvero tanto e basta date un'occhiata qui sotto in descrizione ai link appunto dei partner e dei servizi che sto utilizzando attualmente perché sono molto validi e appunto di reputo molto molto interessanti basta partiamo partiamo da Bitcoin perché Bitcoin sta andando a avere molta molta volatilità lo abbiamo visto lo abbiamo visto nella giornata di oggi lo vediamo meglio sull'orario perché come vi dicevo siamo andati di nuovo a ritestare molto vicina la media 200 ema oraria ok siamo andati molto vicini e siamo andati anche con dei volumi anche abbastanza interessanti dopo i volumi inesistenti vi direi di questa mattina siamo andati a correggere nella giornata di oggi e qui siamo andati a rimbalzare quindi molto bene perché abbiamo fatto una specie di cap ok vediamo se abbiamo la forza di continuare in maniera rialzista a quel punto ritestare a mio parere ok ovviamente non sono né consigli di investimento né finanziari né di nulla ma ritestare la zona di 57 ok 57.5 dove abbiamo questo top ok locale ok sicuramente quello che si sta verificando è molta è molta molto controllo direi da parte della domanda perché i bears non riescono in questa fase ad avere una continuità ok non tanto a fare qualche affondo perché gli affondi sono stato io il primo a dirvelo ancora nei video di qualche giorno fa attenzione perché gli affondi possono essere molto veloci possono andare a pescare liquidità ci possono essere degli shake i long possono essere liquidati perché è molto goloso ok questa situazione per gli short però il discorso è che non hanno momentum perché tutti i tentativi sono comunque riacquistati in maniera molto forte lo abbiamo visto questa notte lo abbiamo visto adesso ok questo denota domanda denota forza da parte della domanda e questo lo vediamo soprattutto a livello daily perché quando andiamo a fare due candele due candele se ovviamente quella di oggi si andrà a chiudere così ma con un rapporto body shadow molto importante lo vedete qui ok questa era una candela di indecisione quella del 10 ottobre rotta a rialzo quindi abbiamo confermato uno bull break dopodiché abbiamo avuto questa candela che è andata a ritestare ma è stata comprata bene e questa che ha fatto la stessa cosa è un segnale dove la domanda si sta comportando molto bene sta avendo in mano il pallino del gioco e questo è fondamentale ok fondamentale per la prosecuzione del trend di alzista anche perché arrivati a questo punto ci troviamo in una zona che vi ripeto se riusciamo a rompere i 57-58 mila dollari l'accelerazione ai 60 diventa molto veloce e sopra non c'è gran che quindi poi si ragionerà inoltre mai se li andremo a valutare altrimenti se il movimento di oggi venisse ad assorbito avessimo una chiusura al di sotto io sono in osservazione molto 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 da vicino molto interessante questa zona di 53-2 perché potremmo giocarci anche qui un rimbalzino ok la media 12 ema daily è molto interessante è una media molto attrattiva per il prezzo e quindi a me piace sempre usarla per fare un'eventuale prima entrata per poi scalare magari le entrate anche sulla 26 ovvio che se andassimo a perdere appunto questi minimi qui dei 47 si andrebbe a inclinare però è ovvio che stiamo facendo analisi molto di ampio respiro a livello orario invece l'abbiamo già vista ed è molto molto interessante voglio passare velocemente a Dot perché guardate che bella reazione che ha avuto Dot un po' dovuta a questa credo notizia proprio breaking da parte delle auction auction che sono davvero in preparazione la pagina di Polka.js si è aggiornata abbiamo all'interno infatti c'è stata un po' di manutenzione dovuta a questo dovuta al fatto dell'introduzione anche lì della sezione paracene quindi sarà veramente una cosa molto molto interessante vedere come si comporterà il prezzo di Dot quello che sarà appunto l'interesse ma soprattutto a me mi piacerà vedere come andrà la questione delle auction capire se ci saranno dei ritorni importanti un po' come è stato su Kusama su diversi progetti quindi sarà tutto molto molto interessante da valutare nei prossimi mesi un ecosistema che sapete non mi sono mai speso negativamente mi piace molto e quindi sono in osservazione su un progetto che direi che abbiamo atteso davvero tanto e ormai ci siamo ci siamo ci siamo quasi ok? per quanto riguarda la dominance nella giornata di oggi sta andando a fare un leggero recupero in realtà non abbiamo mai perso la media 12 periodi anche qui il trend è up ok? quindi voglio capire fino a quando riusciremo a salire con la dominance nelle condizioni attuali di mercato va benissimo così ok? va benissimo così ragazzi io sono contento di vedere la dominance salire è un mercato comunque che si mantiene bene sano potremo arrivare anche a testare ve l'avevo detto a 200 quindi questa zona qua dei 47,4 perché in realtà come l'avevo già fatto vedere storicamente la 200 è sempre stata una media che appunto ci portiamo avanti da marzo non l'abbiamo mai persa che è gennaio gennaio 2021 non l'abbiamo mai ritestata mai recuperata quindi può essere interessante anche come livello potenzialmente di trovare un top temporaneo magari prima di poter proseguire eventualmente questo non lo sappiamo però è appunto a livello che sto osservando e va anche in prossimità più o meno di questa zona qua che dovrebbe essere un'altra resistenza per la Dominance Dominance che però sta dando ragione a Bitcoin ok stiamo vedendo principali al coin non andare a performare benissimo lo vediamo molto bene dalla total 2 perché la total 2 è negativa e questo fa di niente ragazzi cioè stiamo parlando del nulla però di fronte ha invece una total che è leggermente positiva quindi ci ha maggiore testimonianza del fatto di come di come questa situazione sia molto più propensa a favorire Bitcoin un po' anche dovuto all'abbassamento di Dominance che è stato molto marcato negli ultimi giorni o meglio nelle ultime settimane ragazzi non voglio andare oltre perché voglio che sia abbastanza chiaro e mi piacerebbe che ci sia più concentrazione ecco su quello che è Bitcoin in questa fase perché è una fase molto secondo me nervosa ma i bulls a me appaiono in controllo ciò non significa che non possiamo assistere a ulteriori shake possiamo tranquillamente ritestare il 53.3 e lì ho gli occhi puntati per un eventuale entry prima personalmente lascio navigare il trend ovviamente le entrate che ho già fatto però può essere interessante appunto come come osservazione ok basta ragazzi io mi fermo qualora questo contenuto vi sia stato utile e interessante vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace a iscrivervi al canale con il clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo appunto domani mattina con il nostro consueto Morning with Crypto intanto vi auguro a tutti una buona serata ciao ragazzi